Allora, benvenuti. Benvenuti, passato il quarto d'ora accademico, iniziamo. Questo è il nostro settimo appuntamento di altri risorgimenti. L'ultimo dove ci ospiteranno i padri saliziani, che ringraziamo, saliziani della parrocchia di San Marone. Il prossimo appuntamento, il 9 aprile, ritorneremo a Civitano Alta. Questo per fare sì che sia la città di Civitano Alta e Porto, che la sua parte, la sua frazione alta, fossero coinvolti da questo ciclo. Quindi abbiamo iniziato il 16 settembre a Civitano Alta, nella parrocchia di San Paolo, all'auditorio di San Paolo. E finiremo il 9 aprile, appunto, sempre a San Paolo. Oggi il professor Giuseppe Pucci Cipriani di Firenze parlerà della resa dell'ultima fortezza porbonica di Civitella del Tronto nel Terramano. Abbiamo voluto scegliere, come vedete, la conferenza oggi è di domenica, perché oggi volevamo essere proprio precisi con l'anniversario. La fortezza di Civitella è caduta il 20 di marzo del 1861, quindi il 20 di marzo del 2011, sono precisamente 150 anni. Vi ricordo che la proclamazione del Regno d'Italia del 17 marzo è stata festa nazionale, due o tre giorni fa. E quindi per tre giorni la fortezza di Civitella ha continuato a sventolare la bandiera borbonica, bianca con i gigli d'oro, mi sembra, quando invece c'era già lo Stato unitario. E quindi questo ha creato non poco imbarazzo tra le diplomazie europee, che appunto dovevano riconoscere il Regno d'Italia, o ancora aspettare che l'ultima bandiera fosse ammai nata. La storia dell'assedio è stata molto lunga, è iniziato a fine ottobre, si è concluso appunto il 20 di marzo, è stata una cosa eroica per questo tipo di eventi. Non era nuova ad assedi, Civitella era il lembo più settentrionale del Regno borbonico, dei regnicoli, come si diceva, era al confine con lo Stato pontificio lungo il Tronto, appunto nella provincia di Termo, attuale Abruzzo, e da sempre è stato un baluardo inespugnabile, fino all'avvento dei cannoni rigati probabilmente, che hanno poi bombardato e smantellato la fortezza, ma aveva sostenuto un altro assedio importante nel XVI secolo, nel 1557 se non erro, nella guerra detta del Tronto, da allora in poi si chiamò Civitella del Tronto infatti, ebbe il titolo di Civitella, Civitas Fidelissima, appunto per aver sostenuto questo assedio francese, naturalmente parteggiava per la parte spagnola, il titolo di città le venne nel 1589, e poi ha subito un altro assedio importante con le guerre napoleoniche, due assedi in verità, quello che si ricorda di più è quello, il secondo, nel 1806, fra marzo e maggio del 1806, quando il comandante della piazza era il maggiore irlandese Matteo Wad, Wad è scritto, non so se era Wud, è una storpiatura, insomma, c'è un monumento a Civitella che ricorda questo comandante. È una storia poco conosciuta, naturalmente noi quando abbiamo iniziato il ciclo arte e risorgimenti abbiamo detto chiaramente che per cercare di indagare la verità sotto tutte le sue sfaccettature, per sapere qualcosa di altro, avremmo dato la voce e lo spazio a persone che raccontano storie diverse, da quella vulgata nei libri di storia e che a malapena si studia. Adesso certo con questo 150esimo qualcosa si è rinfrescato, quindi sono personaggi come il professor Oggi Pucci Cipriani che è dichiaratamente di parte, però nel senso positivo del termine, nel senso che ci racconterà la sua versione. Poi ognuno di noi, quando avrà messo insieme i vari pezzi e avrà avuto più informazioni, si farà la sua idea. Noi non mettiamo, come abbiamo detto più volte, lo ridiciamo sempre, questa è la settima volta, compreso il convegno che abbiamo fatto a dicembre, sempre qui è l'ottava volta, non mettiamo in dubbio l'unità nazionale, non mettiamo in dubbio il tricolore qui, ce l'ho anche qui una piccola coccardina, però vogliamo sapere a distanza di tempo anche altri fatti che indubbiamente sono stati taciuti perché la storia, come sempre, la scrive giustamente, forse, chi vince e quindi la scrive a suo uso e consumo. Se si ha la curiosità di ascoltare anche altre cose, poi ognuno ti darà le sue debite, diciamo, conclusioni. Ma adesso lasciamo spazio al professor Giuseppe Pucci Cipriani con la resa dell'ultima fortezza borbonica di Civitale del Tronto nel Terramano. Cari amici, buonasera. Diceva l'amico Manni che presenterò la storia da un certo punto di vista, cioè diceva che sono una persona di parte. Sono una persona di parte. Quindi questa storia difficilmente si trova nei libri di testo. Voi tutti ricorderete la storia risorgimentale studiata nelle scuole medie, nelle scuole elementari, nelle scuole superiori. E' una storia piuttosto manichea, il bene da una parte, il male dall'altro. Garibaldi, il biondo eroe dai capelli biondi e dagli occhi celesti che combatte contro i borboni cattivi, questo regno vergognoso, questo regno oscurantista, eccetera. Quindi una guerra di liberazione, una guerra dei piemontesi che invasero uno stato sovrano, due stati sovrani, anche lo stato pontificio, e li ribellarono da una schiavitù centenaria. Io vi racconto un piccolo episodio per dire come il Sud non voleva assolutamente essere liberato. Fu una guerra civile di una ferocia inaudita. I piemontesi prendono Ponte Landolfo, i bersaglieri piemontesi. Quindi fucilano donne, vecchi bambini che trovano per la strada e bruciano il paese. Racconta il bersagliere Gastaldi in una lettera al padre «Bruciamo il paese e vedevamo i poveretti scapparsene, sparando su di essi». Quindi fu un'infamia questo Ponte Landolfo. Cittadini fu un atto di repressione di fronte al quale impallidisce anche la strage, io sono toscano, di Sant'Anna Stazema, voi lo ricordate, o di Marzabotto. Vi furono storie di repressione, poi lo vedremo anche nell'Abruzzo, in terra d'Abruzzo, paesi distrutti, inceneriti. L'altro episodio è questo, un gruppo di carabinieri viene assalito dai briganti, metto briganti tra virgolette perché non era il solito brigantaggio che fu combattuto sia dal regno borbonico sia poi dai Savoia, un brigantaggio come il banditismo. No, briganti si intende, venivano chiamati coloro che combattevano per il loro re, per il loro regno. Quindi briganti, mettiamolo tra virgolette, un gruppo di briganti, evidentemente, c'è feroci, certamente c'era stato Ponte Landolfo, questi carabinieri furono assaliti. Poi stavano per cadere, per essere fatti prigionieri dai lealisti. Ragazzi di 20 anni, 19 anni, ragazzi di leva, che piuttosto di cadere nelle mani dei briganti, preferiscono suicidarsi. Ci fu un suicidio. Sei si suicidarono pur di non cadere nelle mani dei briganti, incattiviti dopo Ponte Landolfo. Ecco, pensate allora ai fratelli d'Italia. Pensate, quando ci dicono che fu una guerra di liberazione, aspettavano la liberazione, aspettavano che fossero cacciati i borboni, fu una guerra civile atroce. Prima di questa premessa, prima di parlarvi della fortezza di Civitella, della resistenza, vorrei leggervi alcune annotazioni di Pino Aprile. Pino Aprile è un giornalista, forse voi lo ricorderete, un giornalista era il direttore di gente, che viene, se lo vogliamo inquadrare, ma questo non ci sarebbe bisogno, ma comunque se lo vogliamo inquadrare politicamente, lui viene il giornalista di sinistra, che scopre a un certo momento, non è uno storico, ripete, è un giornalista, scopre quel risorgimento sconosciuto. E lo intitola così, tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del sud diventassero meridionali. Ecco, voi pensate, la persona che ha studiato, come tutti noi, la storia nelle scuole, che vede i mille garibaldini eroici che sbarcano in Sicilia per liberare dalla tirannia il re cattivo che tiene i sudditi in ceppi, eccetera. Ecco, lui ha letto dei testi, ha cominciato a consultare gli archivi e lui scrive queste cose. Io non sapevo che i piemontesi fecero al sud quello che i nazisti fecero a Marzabotto, ma tante volte, per anni. Non sapevo che nelle rappresaglie si concessero libertà di stupro delle donne meridionali, come nei Balcani durante il conflitto etnico, o come i marocchini delle truppe francesi in Ciociaria, nell'invasione, da sud per redimere l'Italia dal fascismo. Ogni volta che viene liberato, il mezzogiorno ci rimette qualcosa. Ignoravo che in nome delle unità nazionali, i fratelli d'Italia, ebbero pure il diritto di saccheggio delle città meridionali, come l'anzichenecchi a Roma, e che praticavano la tortura, come i marini ad Abu Ghraib, e francesi in Algeria, Pinochet in Cile, né che si incarcerarono i meridionali senza accusa, senza processo, e senza condanna, come è accaduto a Guantanamo. Centinaia di migliaia di briganti per definizione, perché meridionali, e se bambini briganti precoci, se donne brigantesse o mogli figli di briganti, o consanguine di briganti, sino al terzo grado di parentela, o persino solo paesani o sospetti tali. Io credevo che i briganti fossero proprio briganti, non anche soldati borbonici e patriotti alla guerriglia per difendere il proprio paese invaso. Non volevo credere che i primi campi di concentramento e di sterminio in Europa li istituirono gli italiani del Nord. Per tormentare e farvi morire gli italiani del Sud, a migliaia, forse a decine di migliaia, non si sa, perché li squagliavano nella calce, anche nell'Unione Sovietica di Stalin. Non sapevo che a Italia, così unificata, impose una tassa aggiuntiva ai meridionali per pagare le spese della guerra di conquista del Sud, fatta senza nemmeno dichiararla. Ignoravo che l'occupazione del Regno delle Due Sicilie fosse stata decisa, progettata, protetta dall'Inghilterra e parzialmente finanziata dalla massoneria, detto da Garibaldi, sino al Gran Maestro Armando Corona nel 1988. Non sapevo nemmeno di essere meridionale nel senso che non avevo mai attribuito alcun valore, positivo o negativo, al fatto di essere nato al Sud o al Nord. Mi ritenevo solo fortunato di essere nato italiano e fra gli italiani più fortunati perché vivevo sul mare. Ecco, questo è Pino Aprile. Immaginate, insomma, la botta, 250.000 copie vendute, questo libro che vedo che circola anche nelle scuole. Quindi c'è un po' di curiosità per vedere l'altra faccia. ma vediamo Civitella del Tronto, questo per dimostrare che il meridione non fu liberato, il meridione combatté in questa guerra civile per la propria identità, per la propria terra, per il proprio re. Nell'860, nell'860, dalla Sicilia fuggono i gendarmi, i soldati sbandati e aitri si uniscono a bande di pastori e di contadini inquadrati in quattro formazioni partigiane comandate da un vecchio barone legittimista Clicce della Grange. Abruzzo è la Vandea d'Italia quando i fratelli d'Italia iniziano la guerra di conquista per liberarli dalla schiavitù borbonica. Civitella del Tronto, come io ho letto anche nel foglio informativo della conferenza, è proprio posta sulla sommità di un monte come su uno scoglio inaccessibile proprio. sovrastante un paese e protetta e un paese che oggi ha poco più di mille persone protetta da una guarnigione borbonica e aiutata all'esterno tutto intorno Civitella aiutata all'esterno da bande lealiste bande di briganti tra virgolette che combattono contro l'esercito piemontese. Civitella è sotto il comando del comandante Luigi Ascione simbolo di tradimento fu un grande traditore. Entrò in Civitella con 400 uomini invece il capitano Giuseppe Giovine di Napoli che fu un sessantenne che ebbe la sua fedeltà anche se i civitellesi difensori della guarnigione poi si ribelleranno a lui perché non vogliono che faccia la resa. intanto questo Ascione è in combutta con il governatore di Teramo De Virgilis e cerca una capitolazione per Civitella. Si scoprì nella fortezza addosso ad una donna una lettera con il sigillo sabaudo nel quale si proponeva ad Ascione la capitolazione di Civitella. Garibaldi sarebbe pronto a fare qualsiasi cosa purché Civitella si arrenda. i soldati tentano di linciare Ascione lo mettono agli arresti e il comando viene affidato a Giuseppe Giovine ma i tradimenti continuano serpeggiano in Civitella. Il 23 settembre i decurioni cioè i consiglieri comunali sarebbero e gli impiegati comunali di Civitella che infatti passano direttamente a riconoscere il regno d'Italia ecco l'anno 1860 al 23 settembre nonostante lo stato d'assedio onde sostenitori della borbonica tirannide dal giorno 9 corrente mese non cessano di opprimere gli abitanti di questo capoluogo e dell'intero comune il secondo eletto in assenza del sindaco eccetera ecco salutano il glorioso governo di Vittorio Emanuele con la dittatura del grande generale Garibaldi è chiaro che loro cercano un salvacondotto perché hanno paura che i piemontesi dopo di essere fucilati dai piemontesi quindi stanno sempre più soli i difensori di Civitella del Tronto ma Civitella del Tronto a capeggiare la resistenza direi tra gli ultra cioè un francescano padre Leonardo Zilli di Campotosto quale scriveva la setta massonica riteneva la setta massonica colpevole delle sventure italiane poi un personaggio famoso Zopito Suppino di Buonaventura è un contadino semi-analfabeta di Sant'Egidio alla vibrata si scriveva si deve stirpare la razza del maledetto brigante Zopito era un uomo coraggioso intrepido che aveva il suo seguito e si va a difendere la fortezza di Civitella i piemontesi più volte andarono a casa sua per uccidere i figli nascosti però dalla moglie il 4 ottobre sempre il 1860 è l'onomastico del re si canta il Teddeum si sparano i cannoni sparano a salve intanto i pochi per il momento assedianti di Civitella del Tronto i pochi piemontesi abbattono capiscono che la resistenza di Civitella può andare alle lunghe e bruciano abbattono tutte le case dove ci sono i mulini mulini quindi devono farsi il pane con dei mulini a mano dei mulinelli a mano è chiaro che da Civitella escono ogni tanto sortono sia per fare la guerriglia con le bande lealiste sia per rifornirsi di viveri succedono alcuni episodi nel 1870 nel settembre a Civitanova Marche un prete Don Cioffi viene bruciato vivo dai rivoluzionari Garibaldini una masnada di 800 Garibaldini bruciano le case dei possidenti e la guardia nazionale di Campobasso Luc De Luca a Isernia usò violenza al vescovo corse una donna per liberare il vescovo e fu uccisa da questo De Luca insieme alla bambina che aveva in braccio è chiaro che ci fu la reazione dei lealisti il generale Pinelli è spietato nella sua ira e la sua ira si abbatte su pizzoli sortito ecco sortito dall'Aquila con i suoi soldati Pinelli viene aggredito dai lealisti e prende una sassata ai fianchi però muoiono due o tre soldati il Pinelli torna all'Aquila poi ritorna con i soldati ritorna con i soldati e invasa pizzoli la saccheggia la dalle fiamme uccide impone taglie fa prigionieri e fucile e qui c'è il famoso episodio del farmacista del luogo che poi oltretutto era una persona che come tutti era stato borbonico ma poi ha abbracciato le idee liberali e ospita il Pinelli in casa è un episodio raccontato nell'eredità della priora da Carlo Alianello Alessandro Cicchettani ospitò Pinelli dopo abbondanti libagioni la notte il Pinelli trovò nella cantina il ritratto dei borboni nascosto la mattina lo fece fucilare nonostante i pianti e i lamenti della moglie davanti alla moglie il governo di Torino è impressionato dalla resistenza di Civitella del Tronto ed è impressionato anche dal consolidarsi di queste bande legittimiste che tengono l'esercito piemontese quindi l'esercito piemontese fa cingere i cannoni rigati proprio tutta Civitella del Tronto ecco hanno inizio i bombardamenti l'operazione non solo l'assedio ma i bombardamenti giorno per giorno si tenta scavando trincee così di impedire ogni comunicazione con l'esterno ma riescono attraverso delle forre per chi va a Civitella le potrà vedere a venire fuori e prendere vettovagliamenti e fare la guerra legittimista viene dichiarato da Pinelli lo stato d'assedio e proclamata la corte marziale ecco chiunque sarà colto con armi di qualunque specie sarà fucilato immediatamente vedete come veniva combattuta questa guerra capito fucilazione per chiunque viene trovato potrebbe andare a caccia con arma viene fucilato e viene fucilato chi sarà coloro che insultassero lo stemma Savoia molto largo cosa vuol dire insultare lo stemma Savoia il ritratto del re che neanche conoscevano o la bandiera nazionale italiana chiunque verrà riconosciuto di avere con parole o con denaro o con altro mezzo eccitato i villici ad insorgere fucilato quindi il periodo sapete nella guerra civile ci sono le vendette personali eccoci eccoci l'invasione del sud prendevano uomini e li fucilavano ragazzini che avevano il pane in tasca venivano fucilati perché sospettati di portare il pane ai briganti voleva espugnare Civitella il Pinelli ne andava del suo buon nome e la sottopose iniziò a sottoporla a un cannoneggiamento continuo il 15 novembre durò per tre giorni ininterrottamente questo cannoneggiamento chiese la resa a descrizione risposero di no nel frattempo c'è un personaggio chiamato il brigante Piccioni fu un agricoltore della zona Piccioni che combatté facendo comandò le truppe lealiste le truppe fedeli lui era papalino fedeli allo stato pontificio Piccioni fu un combattente che poi morì e morirono prima di lui anche i figli fu messo una taglia su di lui morì cinque anni dopo nascosto finì così la sua libertà finì la sua vita ecco Pinelli si può descrivere in questa maniera fucilò alla cieca certi infelici trovati con un tozzo di pane come vi dicevo prima e poi fucilò sei sacerdoti bollati per reazionari voi sapete che nel meridione c'erano i sacerdoti non cantanti sapete chi erano i sacerdoti non cantanti che venivano incarcerati coloro che si rifiutavano all'arrivo dei piemontesi di cantare il tedeum sacerdoti non cantanti un reato venivano imprigionati immediatamente tre vescovi un cardinale tre vescovi immaginate ora arrestassero un cardinale tre vescovi insomma succederebbe qualcosa ecco preti non cantanti li fucilò fucilò sei preti a chi gli ricordò la legge e rispose sono preti e basta un po' l'idea con cui fu fatta quest'Italia dalla metà di novembre diciamo sempre nel 60 alla prima decade di dicembre c'è dunque questa supremazia piemontese questi piemontesi che passano all'attacco ma l'effetto dura poco i soldati di Civitella questo per vedere come erano fedeli come loro sentivano il regno del sud come il loro regno come la loro patria non una patria fatta nel cervello con squadra e con passo una patria perché era il loro suolo la differenza dice Messie e Charette durante la guerra della Vandea tra noi i giacobini è questo loro la patria ce l'hanno nel cervello la patria fatta di squadre di compassi di confini noi la patria ce l'abbiamo sotto i piedi per noi la patria è il nostro paese sono le nostre famiglie i nostri figli dove abbiamo le nostre tombe ecco questo è il concetto dei meridionali probabilmente non lo sapevano neanche esprimere in parole però per questo combattevano per la loro identità per la loro patria per la loro terra e questo proclama è molto bello di Francesco II da Gaeta anche lì c'è un assedio descritto in questo periodo in quest'anno del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia da uno storico anche lui è un giornalista giornalista del mattino di Napoli Gigi Di Fiore l'assedio di Gaeta è molto bello sono pagine di storie commoventi dovrebbero farle leggere nelle scuole insieme a Cesare Abba della storia dei mille ognuno ha la propria dignità scrive Re Francesco da questa piazza dove difendo Gaeta più che la mia corona l'indipendenza della patria nostra salza la voce del vostro sovrano per consolarvi delle miserie per promettervi tempi più felici io sono napoletano nato tra voi non ho respirato altra aria non ho veduto altri paesi non conosco altro suolo che il natio tutti gli affetti miei sono entro il regno i vostri costumi sono i miei costumi la vostra favella è la mia favella le vostre nobili brame sono le mie brame erede di antica dinastia che a lunghi anni regnato in queste belle contrade ricostituendo l'indipendenza e l'autonomia non vengo già dopo spogliati gli orfani del loro patrimonio e dei beni la chiesa a impadronirmi con estranei forze della più deliziosa parte d'italia tra continue cospirazioni non ho fatto versare una goccia di sangue e mi hanno accusato di debolezza avevo dato l'amnistia avevo aperto la patria agli esoli conceduta la costituzione mi vince la ingiustissima invasione dello straniero le due Sicilie salvo Gaeta e Messina ultimi asili della loro indipendenza sono nelle mani dei piemontesi tutto è anarchia tutto ha rimestato stranieri avventurieri per saziare avidità io resto qui e combatto per non abbandonare il sì santo deposito e caro sono parole molto belle parole scritte da un re che amava la sua patria era un re napoletano non era un re straniero riprendono i combattimenti a Fundico Perso San Gregorio Talvacchia Torre Santa Lucia siamo il 4 e il 5 gennaio del 1861 i piemontesi hanno una sconfitta attaccano Civitella hanno una sconfitta ma non sono i morti i feriti poca cosa è lo smacco dato ai piemontesi i piemontesi non sopportano questo una roccaforte che segna il confino tra lo stato e i confini tra lo stato pontificio e lo stato del sud che resiste resiste quando tutti sono contro è assurdo resistere per Pinelli dichiara immediatamente lo stato d'assedio senza neanche proclamarlo dichiararlo della città di Ascoli ma la banda di piccioni la sera prende spara le sentinelle entra dentro e allora c'è la rappresaglia contro Borgo Ammozzano un'altra Sant'Anna Stazema si scatena al terrore saccheggiato il paese molti per i non e l'incendio Gaeta intanto è una storia parallela Gaeta e Civitella che resistono insieme però vedremo Civitella è la fedelissima resisterà anche dopo Gaeta dopo che il re se ne è andato dopo che il re ha capitolato dopo che la fortezza ha capitolato Civitella resiste ecco perché è una pagina una pagina bella una pagina affascinante cosa succede a Civitella del Tronto il colonnello giovine che è fedele al re ma non è come la guarnigione la guarnigione vuol resistere a oltranza dice di giovine fino a quando Francesco II si sarebbe trovato non bisogna capitolare fino a quando Francesco II si sarebbe trovato nel suo regno e che tutte le fortezze cioè anche Messina e Gaeta non si fossero arrese lui era nel dovere di non cedere la piazza cioè di giovine dice Civitella del Tronto e dice finché il re resta Gaeta combatte a Gaeta noi non possiamo cedere dopo sì secondo giovine ma quando ripresero le ostilità a Gaeta che viene bombardata giorno e notte la posizione di Gaeta non è come quella di Civitella che è in alto è in basso quindi viene bombardata in continuazione sono delle leggete quel libro di Di Fiore che è stupendo e poi viene ricordata la resistenza di Gaeta anche da Carlo Alianello nel libro La Conquista del Sud oramai nel 1861 il 19 gennaio l'ammiraglio Barbier de Tinan suo malgrado perché era una persona lealista deve levare le ancore alle navi far partire le navi quindi Gaeta verrà bombardata anche dal mare dall'ammiraglio piemontese Persana a questo punto durante i otto giorni i quattro giorni di tregua che chiede che chiede Gaeta siamo a Gaeta ora il re lasciò liberi di partire quanti lo desiderassero bene su tutta la guarnigione di Gaeta soltanto tre ufficiali e 130 i 130 feriti gravi dovettero a malincuore partire soltanto tre partirono scelsero di partire e l'ammiraglio Persano iniziò il bombardamento anche da parte di mare immaginate Gaeta dove intanto il colera falcidiava ogni giorno decine e decine di persone c'è il colera ma in Abruzzo però continua forte la battaglia la guerra legittimista e a questo punto il generale il generale Pinelli vuole finire vuole reprimere definitivamente questa guerra legittimista vuole tenta di reprimere e questo per dimostrarvi con che animo fu fatta questa guerra com'era la ferocia togliamo la buona fede togliamo l'eroismo che ci fu dall'una e dall'altra parte quando si parla di ragazzi di leva di bersaglieri di leva di carabinieri di leva che andarono in questo paese a combattere e poi dalle loro lettere sono estrani i costumi estrani o tutto non si si conobbero i nostri fratelli d'Italia attraverso i mirini dei loro fucili ecco la verità ecco come come il bando ad Ascoli del 3 febbraio dell'861 di Pinelli ufficiali soldati voi molto praste ma nulla è fatto quando qualche cosa rimane ancora da fare sentite come prosegue il bando un branco di quella progenie di ladroni ancora sannida fra i monti sono i combattenti lealisti sono i combattenti di Civitella sono i sudditi fedeli del legno del sud correte a snidarlo e siate inesorabili come il destino contro nemici tali la pietà è delitto vili e genuflessi quando si vedono in numero proditoriamente ne assalgono alle spalle quando vi credono deboli e massacrano i feriti insomma cencio offende straccio indifferenti ad ogni principio politico avidi solo di preda e di rapina ora sono i prezzolati scherani del vicario non di Cristo ma di Satana pronti a vendere ad altri il loro pugnale quando l'oro carpito alla stupida credulità dei fedeli non basterà più a saziare le loro voglie ecco il programma dell'Unità d'Italia noi li annienteremo schiacceremo il sacerdotal vampiro il papa che con le soze labbra succhia da secoli il sangue della madre nostra purificheremo col ferro e col fuoco le regioni infestate dall'immonda sua bava e da quelle ceneri sorgerà più orgogliosa la libertà anche per la nobile provincia scolana maggiore generale Ferdinando Pinelli ecco insomma ecco il programma dell'Unità d'Italia queste sono cose che si leggono sono documenti che oggi insomma si leggono io 40 anni fa quando iniziai insomma stupito io lessi quello che mi colpì lo dicevo all'amico prima fu un romanzo l'oreità della priora di Carlo Alianello ma allora quello che ho studiato a scuola quello che ci dicevano queste pagliacciate insomma quando io leggevo queste cose i brividi io conosco Napoli amo Napoli amo il Meridione vedere questi paesi conoscere le persone ecco trattati in questa maniera come vedete c'è una differenza ben altre parole se non lette in un altro bando è quello del brigante del brigante Piccioni il quale richiama agli ordini la sua truppa i suoi lealisti noto con dispiacere e rammarico per le lagnanze di molti buoni e fedeli al nostro legittimo sovrano Pio IX che rimproverano soverchierie e disturbi che fate a questi patire per i viveri e per tanti altri tedi che a loro di continuo voi date sentite rimprovero ai suoi soldati non perché uccidono ma perché danno tedi ricordatevi che a soldati vi siete per difendere la religione di Cristo egli è il vostro sommo padrone guardate che differenza di linguaggio non c'è odio c'è un richiamo all'onore ai soldati a non infierire sulla popolazione a lasciare in pace la popolazione c'è una differenza insomma tra il lupo e l'agnello tra l'aggressore e tra l'aggredito tra chi parla con il cuore con il sentimento sono le popolazioni del sud dei lealisti e chi parla per l'ideologia sono accecati i generali pinelli sono quel gruppo di anticlericali che volevano non l'Italia unita ma la loro Italia unita cioè unita un'Italia che era già unita un'Italia unita da una lingua da una religione molte volte io mi domando ma io sono italiano certo che sono italiano sono orgoglioso di essere italiano mi sento italiano sono nato la mia famiglia è nata qui in Italia ma non sono italiano da 150 anni sono da sempre italiano la nostra scuola la nostra storia ha mille anni ma Michelangelo Dante il Petrarca i nostri scienziati fino a Galileo Galilei come sono? il papa San Pio V di Lepanto non è un papa padano è un papa italiano quindi il concetto di italianità c'era sempre siamo italiani siamo orgogliosi di essere italiani non la loro Italia l'antitalia quella per intenderci del partito d'azione l'Italia degli azionisti quindi una loro Italia l'Italia ideologica un'ideologia e in questo centocinquantenario sono cose idiote quello di offendere il tricolore no quello che dispiace invece è che questo simbolo di un'unità che oramai c'è nessuno vuole riportare sul trono antiche dinastie insomma sono cose faremmo ridere si vuole soltanto rivendicare rivendicare una storia un'appartenenza le nostre radici queste sono le nostre radici non si può cancellare una storia noi viviamo l'Italia esiste da 150 anni e prima cos'era? gli stati preunitari non esistono la nostra civiltà comincia dal 1860 prima non esistevamo non era un'Italia andiamo a Civitella del Tronto il re allora dalla piazza di Gaeta lancia il suo ultimo proclama non è ancora forse rassegnato ad andarsene alla perdita del trono le sue speranze sono alimentate da queste bande di lealisti che sono sempre più forti in terra d'Abruzzo quando parte sono schierati tutti i reggimenti sono soldati laceri coperti di polvere di sangue e di onore sono feriti e mutilati molti di quali arrivano in barella per salutare i loro sovrani lui è Maria Sofia che è Francesco II che ha combattuto sugli spalti e la regina Sofia che è stata sempre a fianco dei malati nel lazzaretto con i malati di colera piangono allontanarsi vedendo allontanarsi i loro sovrani la coppia regale mentre dalla batteria di Santa Maria si innalza per l'ultima volta il vessillo dei gigli salutando il re e la regina con 21 colpi di cannone cade dunque Gaeta ma resiste Civitella del Tronto e rimane ormai l'ultimo baluardo del regno Borboni è molto bella la tradizione che vuole che la regina abbia cuscito è una tradizione una pia tradizione abbia cuscito con le sue mani la bandiera i gigli sulla bandiera bianca e siamo stati poi inviati ai difensori di Civitella con sopra la scritta non mi arrendo e si ricordano anche le parole di che Carlo Alianello mette in bocca al tenente Franco che sta morendo a Gaeta e che dice a un suo giovane commilitone il giovanissimo l'alfiere Pino Lancia raccomandandogli le ultime sue cose dice io ho combattuto qui a me piace la libertà però quando la libertà te la portano sulla punta delle baionette non è più essa altri combattono e muoiono per una conquista una terra un'idea di gloria per un convincimento magari un ideale ma noi moriamo per una cosa di cuore la bellezza qui non c'è vanità non c'è successo non c'è ambizione noi moriamo per essere uomini ancora uomini che la violenza e l'illusione non li piega e che servono la fedeltà l'onore la bandiera e la monarchia perché sono padroni di sé e servitori di Dio ieri forse poteva sembrare più nobile più alta la parte di là ma oggi con noi c'è la sventura e questa è la parte più bella perché sopra di noi ci possiamo scrivere senza speranza guardate sono parole molto belle insomma rendono l'idea di questa resistenza di questo attaccamento di queste permettetemi di dire di queste nostre radici hanno da parte dei piemontesi le condizioni più belle per la resa tutta la guarnigione della piazza compresi a Gaeta gli impiegati e i militari ne sarà chiuso e usciranno con gli onori delle armi il re lancia il suo ultimo proclama esce da Gaeta mentre a Civitella del Tronto il colonnello giovine ormai parla ai soldati e dice il re se n'è andato dopo aver combattuto eroicamente il re se n'è andato quindi possiamo capitolare siamo noi praticamente che capitolando otterremo buone condizioni dai nostri nemici noi il nostro dovere l'abbiamo fatto ma una volta che il re non c'è più è la fine di un regno e noi capitoliamo ecco per risposta ai difensori di Civitella guardate è bella questa difesa perché nonostante la realtà nonostante quello che succede nonostante il regno sia finito il re se ne sia andato questi vogliono ancora combattere puntano un cannone contro la casa degli appartamenti di giovine e con un fiammifero vogliono bruciare la miccia lei va al disturbo se ne va via da Civitella giovine fugge da Civitella ma dove intanto ripeto parlare poi di di atti di roismo se voi un giorno andrete io ve lo consiglio a visitare Civitella vedete su quella rocca che sembrava espugnabile dove si racconta che prendessero una moneta d'argento e la facessero vedere ai piemontesi e questi venissero fuori per sparare a loro volta venivano presi il padre il soffino di Buonaventura che combatte che arma la guerriglia ecco questo Ascione voi ricordate il comandante di Civitella Ascione viene messo agli arresti domiciliari questo naturalmente serpeggia il tradimento quindi cerca un accordo giovine se ne è andato via ma viene affidato il comando della fortezza al primo tenente Messinelli di ex sergente Messinelli dice da questo momento quanti di voi non siano disposti a sopportare la lotta e il sacrificio pensate Gaeta già caduta quindi questi combattono proprio per combattere facciano pure un passo avanti saranno liberi di andarsene subito ecco solo 4 soldati l'1% su 400 soldati di guarnigione restano lì Francesco II aveva ottenuto per mezzo della legazione di Francia che si estendessero i patti di Gaeta ai difensori di Messina e Civitella ecco perché giovine il comandante Cedar voleva la resa cioè l'amnistia i soldati dovevano decidere entro 15 mesi se prendere servizio nell'esercito piemontese voi sapete che quasi tutti i napoletani rifiutarono di prendere servizio nell'esercito piemontese e per loro fu la deportazione nei lager dei Savoia c'è un libro un saggio interessante scritto da Fulvio Izzo che è a Scolano e poi le deportazioni in Patagonia quindi il lager il lager più famoso è quello di Fenestrelle a Torino Civitella resiste ancora siamo al 16 marzo e cade soltanto quando vengono aperte le porte dall'Ascione e dal Tisker il 20 marzo approfittando dei bombardamenti aprono la porta la porta Napoli entrano in Civitella e ci furono poi le rappresaglie il Messinelli padre Zilli e Supino di Buonavventura vengono fucilati a porta Napoli Supino di Buonavventura e Messinelli immediatamente padre Zilli non si trova padre Tosti non si trova e l'ha trovato il 21 e fucilato senza neanche alle spalle come un traditore lui che aveva combattuto fino al fondo scrive il generale Finazzi oramai Pinelli non c'è più è succeduto c'è un altro dal 20 che entrai qui a Civitella del Tronto feci tutti i mestieri non ho messo quello di far uccidere uomini ma questo fu quello che mi diede meno fatica perché convinto che era per bene dell'umanità quello che più mi dà pensiero sia il presiedere far mettere insieme processi e cose simili per gente che ha diritto alla forca non si può per certi articoli del codice farli fucilare ciò fa sì che bisogna imporli alla volontà della popolazione la quale è accanita contro questi rivoltosi i quali fanno sacrificare questa popolazione in averi e persone vedete che anche dopo aver vinto dopo aver fucilato questo se ne fa un vanto ecco una guerra ideologica questo se ne fa un vanto mi scoccia di far fucilare persone che avrebbero diritto alla forca insomma qui non c'è pietà non c'è nulla è morto tutto cade Civitella eccolo qui era già stato proclamato il regno d'Italia e Civitella resiste ancora scrive Don Giorgio Maffei Civitella si riconosce nei suoi eroici difensori che per l'onore hanno sacrificato la vita ed è divenuta simbolo di libertà di verità e di giustizia la bandiera borbonica è stata ammainata e si torna a sventolare una volta all'anno sulla rocca nel piazzale antistante la chiesa di Santiago per opera dei partecipanti al convegno tradizionalista organizzato che ha scelto l'ultimo baluardo di libertà per ricordare e celebrare la tradizione della chiesa la tradizione della patria per coloro che non l'hanno tradita né dimenticata Civitella del Tronto giganteggia nella storia d'Italia contro tutte le mistificazioni create al fine di esaltare l'unità del nostro paese conseguita con l'aggressione armata e che l'imposizione di un regime politico non cercato e non richiesto dal popolo italiano gli eroi che sono morti per la libertà non sono stati vinti di fronte al giudizio della storia chi combatte per la verità per la giustizia per la libertà ha già vinto anche se viene sopraffatto dalla forza bruta dei prepotenti grazie e buonasera Allora ringraziamo il nostro relatore che naturalmente ci ha messo l'anima in questa relazione ed è naturalmente convinto vedo anche qui il Deplian del prossimo incontro tradizionalista prendo un attimo il ventitresimo che si terrà a Civitella il 15, 16 e 17 aprile quindi la settimana prima di Pasqua ha come tema 1861-2011 150 anni di rivoluzione italiana Civitella resiste ancora naturalmente siamo liberi abbiamo ascoltato in religioso silenzio e io spero che adesso si apra un piccolo dibattito per avere chiarimenti delucidazioni per esporre un'altra 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 idea perché ecco sottolineo il fatto che questi incontri sono fatti e non siamo neanche tanto pochi perché siamo 38 sono fatti per imparare qualcosa di nuovo e ragionare con le nostre teste senza mettere come si dice o si diceva il cervello all'ammasso e trarre poi le nostre conseguenze io cosa posso dire naturalmente leggendo e ascoltando queste testimonianze la prima considerazione è che comunque la violenza è sempre triste perché come si dice anche in una conferenza che ho tenuto a Matelica qualche giorno fa morire combattendo vuol dire morire uccidendo qualcun altro quindi sicuramente non si stava facendo la calza o non si stava pregando si muore con le armi in pugno per un ideale per una causa delle volte quella giusta delle volte si crede quella giusta delle volte sono giuste tutte e due o sbagliate tutte e due comunque ricorre alla violenza è sempre una cosa esecrabile da questo punto di vista poi certamente noi adesso abbiamo delle informazioni nuove almeno per noi ci sono documenti che solo adesso circolano questo libro di Pino Aprile sicuramente ha messo nella prefazione non sapevo non sapevo non sapevo ecco adesso si sa adesso ognuno potrà trarre le sue conclusioni il non sapere naturalmente è avere una marcia in meno è sapere qualcosa che non si sa appunto adesso io vedo che il professore qui ha una messa di pubblicazioni sull'argomento interessante che probabilmente si troveranno a Civitella io ho avuto la fortuna di visitare Civitella devo dire con l'Archeoclub d'Italia che ringrazio oggi non c'è la Presidentessa Vecchiarelli ma vi ricordo che insieme alla parrocchia di San Paolo Apostoli e Salesiani che ci ospitano l'Archeoclub è l'altro ente che organizza le nostre conferenze dicevo io a suo tempo all'inizio degli anni 90 ho visitato Civitella e non sapevo cioè l'ho visitata con occhi ero interessato alla fortezza al bel panorama che si vede si vede Ascoli praticamente e quindi sono stato a Civitella con un occhio devo dire neutro non sapevo di queste cose le avrei prese da lì a poco però ecco adesso sicuramente visitando Civitella ci sarebbero altre domande altri sentimenti altri occhi quindi insomma quello che ci ha raccontato il professore è qualcosa che magari qualcuno di noi ignorava adesso spero che ci siano delle domande dal pubblico e ricordo di usare il microfono in fondo vicino al professor Giustozzi perché così possiamo registrare io vi ricordo che tutte queste conferenze fra un po' di giorni saranno anche questa come le altre sul nostro sito centrostudicivitanovesi.it non siate timidi ecco ora parte la resistenza di Civitella ma se vogliamo chiarirci l'idea anche sul significato di risorgimento di unità nazionale volentieri io ho un po' accennato a queste idee ripeto nessuno all'idea saremmo ridicoli di riportare i sui troni nei vari stati no dicevo soltanto però di riappropriarsi della nostra storia questo mi sembra mi sembra il minimo dicendo il massimo rispetto per i combattenti dell'una e dell'altra parte Civitella è stato fatto oltretutto molto bello una campana che la sera ogni sera suona da un colpo ricordando i caduti dell'una e dell'altra parte senza dire gli aggressori e gli accrediti ma i caduti che probabilmente molti in buona fede molti combattendo più che combattendo con il cuore combatterono per le loro idee questa è un po' l'idea nostra poi anche io ho da imparare molto da voi se ne è c'è una domanda intanto io mentre si raggiunge il microfono io non sapevo questo della Patagonia sapevo di fenestrelle sapevo che erano stati deportati però persino dall'altra parte dove finiva il mondo di fatto questa cosa non lo sapevo comunque non è una cosa nuova perché anche i romani quando hanno invaso il Piceno hanno deportato i Piceni dietro Salerno negli attuali Monti Picentini per debellare la resistenza nel terzo secolo avanti Cristo prego la domanda buonasera mi chiamo Cortella volevo una curiosità ho letto recentemente che in occasione della fase finale dell'assedio il comandante Ascione fu fatto entrare nelle mura all'interno delle mura cioè non all'interno delle mura recava un messaggio del re la quale diceva suggeriva consigliava non so di abbandonare la lotta la domanda è questa fu fatto entrare che significa se lui era era un dell'esercito napoletano mi pare Ascione quindi fu fatto entrare perché dove stava se era il comandante dove stava una curiosità così un po' del tipo logistica approfitto visto che sto qui ne faccio un paio di domande magari l'altra come mai Pinelli fu sostituito quando forse o per insuccessi reiterati o proprio in vista del successo finale magari è stato sostituito è stato fatto un nome di una persona e poi anch'io ero incuriosito ero incuriosito da questo fatto della Patagonia cioè insomma dico l'hanno scaraventato un po' lontano un po' fin troppo Fenestrelle è stata pure una sorpresa e chissà che in una prossima occasione non ci capita di andarla a vedere Fenestrelle con un occhio nuovo come Civitella ecco per me che sono abruzzese è interessante sapere che Civitella è stato veramente l'ultimo caposaldo della resistenza al di là poi di tutto il resto ecco grazie grazie a lei io non so io a Scione so che era il comandante di Civitella del Tonto lui fu messo agli arresti domiciliari nella fortezza quindi fu fatto entrare non lo so perché lui non era nel paese lui era nella fortezza Ascione e Ascione a differenza di Giovine Ascione subito voleva capitolare mentre invece Giovine dice no finché c'è il re non si capitola mentre invece i soldati ma anche la popolazione c'è un in una iconografia sono le donne di Civitella che buttano massi di sotto normalmente così fantasiosa per dire che tutta la popolazione appoggiò ecco questa guerra l'Ascione più volte fu tentato i soldati più volte tentarono di linciarlo l'Ascione fu difeso le cronache dal comandante Giovine vero Ascione voleva immediatamente capitolare poi per quanto riguarda i lager di Savoia i soldati vennero portati in questa fortezza 1200 metri insomma abituati anche in un clima diverso non bastasse metterli in un campo di concentramento in un lager furono divelte anche le sbarre perché passasse più lo scrive anche aprile passasse più freddo morivano ci fu una falcidia decine e decine di giorni molti dei superstiti furono anche portati poi in Patagonia io ho letto sul il giornale il giornale che era di Felti ora è di Sallusti la rubrica di Cervi dice ma uno scrive ma come furono deportati in Patagonia furono messi a finestrelle ma dice a quei tempi si usava insomma non so non mi sembra poi ci siano precedenti così tristi insomma ah per quanto riguarda Pinelli Pinelli molti storici tra i quali Massimo Viglione 1861 le due Italie dicono che fosse sostituito proprio dopo quel bando e dopo le atrocità che fece ecco mezzo capo dopo fu il generale Finazzi fu il maggiore che prese Civitella mezzo capo fu il colonnello generale sì sì Finazzi mezzo capo sì sì un ex anzi molti alcuni degli ufficiali borbonici invece verranno presi nell'esercito piemontese e faranno carriera questo mezzo capo ma dopo però la caduta del regno ecco in 15 giorni potevano scegliere se mantenere il grado e servire nell'esercito piemontese oppure no mentre i soldati che non accettavano venivano deportati c'è un'altra domanda forse sì ecco buonasera professore visto che lei ha detto che si possono fare delle domande anche sul risorgimento in generale le volevo chiedere questo io leggendo a parte ascoltando altre conferenze di questo ciclo sono venute fuori delle diciamo delle connessioni fra il risorgimento e la mazzoneria praticamente ho sentito dire dalla professoressa pellicciari che il risorgimento italiano non era stato altro che diciamo un'iniziativa dalla mazzoneria per diciamo per togliere parte dell'Italia allo stato pontificio poi comunque leggendo altri libri forse a carattere più divulgativo meno specialistico leggo sempre che ad esempio la Garibaldi la spedizione dei mille non sarebbe riuscita così bene con mille uomini se dietro non ci fosse stata la mazzoneria inglese che aveva finanziato Garibaldi con tantissimo denaro poi ho letto anche così che sarebbero lo stesso altri libri revisionisti del risorgimento citano sempre le società segrete in particolare la mazzoneria che avrebbe avuto proprio l'interesse a arrovesciare i vari sovrani italiani per dare lo stato in mano ai liberali e per cui citano come i massoni sia Garibaldi che Cavour e Mazzini allora volevo un po' la sua opinione su tutto questo poi anche la differenza che c'era fra carboneria e massoneria e sapere anche quando è sorta la massoneria se è sorta diciamo dopo l'illuminismo oppure proprio in epoca risorgimentale grazie allora c'è una leggenda nera una leggenda nera sugli stati preunitari questa leggenda nera indubbiamente è alimentata dalla massoneria Garibaldi ha rivendicato di essere stato maestro della massoneria ma questo è stato rivendicato anche l'importanza della massoneria nel risorgimento dal grande maestro Armando Corona nel 1978 e ogni anno il 20 settembre il Grand Oriente d'Italia fa un manifesto in cui esprime quello che per loro significa l'unità d'Italia una guerra di conquista contro la Chiesa parlavo prima di noi siamo italiani però che differenza c'è tra l'Italia che voleva la massoneria che ha voluto la massoneria e l'Italia nella quale viviamo che tutte le persone normali vogliono c'era già prima con gli stati preunitari una unione perché si parlava la stessa lingua soprattutto una unione di questa unità era data dalla religione dalle Alpi fino alla Sicilia c'era una stessa religione guardate se c'è stato un momento in cui l'Italia ha combattuto non una guerra civile tra nord e sud ma una guerra civile contro l'invasore è stata nelle insorgenze del 1799 1800 le insorgenze anti giacobine anti napoleoniche quando furono abbattuti i cosiddetti alberi della libertà si sollevò tutta l'Italia contro i francesi le insorgenze dei viva Maria viva Maria viva Gesù viva Maria le insorgenze in tutti gli stati furono queste insorgenze i sovrani addirittura i sovrani preunitari fuggirono i contadini i pastori insorsero i cittadini insorsero contro l'invasore napoleoniche e ci fu una guerra 700.000 morti guardate sono tanti non è che ci fossero le bombe quindi c'è stato un episodio della storia d'Italia questo la massoneria non concepiva che l'Italia insorgesse in armi contro un invasore perché perché toccava le tradizioni perché toccava la religione perché toccava la fede la massoneria questo dava noia ragione l'Angela Pellicciari nei suoi libri a dire che dietro c'era la massoneria inglese mille camicie rosse non facciamo ridere insomma l'esercito borbonico come addestramento come strategia era il migliore esercito in assoluto 60.000 uomini ma ben comandati ben addestrati soldati di mestiere non sono i soldati di leva soldati di mestiere quindi non non c'era storia soltanto che i soldati combatterono ma i generali Lanza Landi tutti i generali del sud erano tutti comprati dalla massoneria non combatterono levarono addirittura i proiettili ai soldati a Calatafimi i soldati tirarono sassate perché non avevano proiettili per sparare volevano combattere andarono a sassate a Calatafimi quindi ci fu senz'altro l'azione della massoneria come sappiamo è nata con l'illuminismo la massoneria i principi della massoneria poi sono i principi di questi generi se voi andate a vedere Pinelli Cialdini sono tutti iniziati alla massoneria c'è Vittorio Messori che ha scritto un libro bellissimo Il Beato Fa di Bruno era combatté eroicamente a custozza per l'Italia Unita combatté con tesoro poi fu perseguitato fu esiliato dalla corte dalla setta massonica che non era massone intitolato il libro Un Italiano Serio Il Beato Fa di Bruno molto bello per vedere ci fu anche chi abbracciò le idee italiane le idee di unità senza per questo essere massone fu perseguitato Il Beato Fa di Bruno quindi la leggenda anche nera del sud nell'esercito borbonico che fu tirannico eccetera no l'esercito borbonico poco prima si era pregato il Ferdinando di mettersi a capo del movimento unitario quindi tanto cattivo non doveva essere e lui rispose ma io non vado a rubare in casa ad altri un'unità d'Italia si poteva fare ma non sotto in odio ecco tutte le unità nazionali vengono fatte per qualcosa e noi abbiamo un risorgimento contro qualcosa cioè contro la religione allora dava noia l'Italia unita dalla religione cattolica dava noia racconta sempre nel Beato Fa di Bruno Vittorio Messori quando fu sbrecciata Portapia il primo a passare fu un certo Turi un valdese con un carrettino trainato da un cane con sopra le bibbie protestanti e incitato dal Turi forza Pionono ecco questo per dire insomma lo stesso Pionono che veniva definito da Garibaldi un metro cubo di letame questa è l'Italia ecco quell'Italia che quando quest'unità d'Italia non ci piace l'Italia non ha 150 anni molte delle idee giacobine dell'Italia hanno 150 anni non l'Italia quindi c'è una leggenda nera sul risorgimento senz'altro la massoneria lo rivendica lo rivendica il 20 settembre è una cosa ci sono dei legami se voi guardate le inserzioni nel giornale il 20 settembre voi trovate la società crematoria ricorda l'unità d'Italia voi sapete le società crematorie le fratellanze popolari in opposizione in opposizione alle confraternite quindi erano tutte dipendenti dalla massoneria quindi senz'altro c'è c'è la massoneria inglese comunque la Pelliciari poi lo documenta molto bene nei suoi libri il risorgimento massonico l'altro risorgimento risorgimento da riscrivere ben documentato in questi fatti poi Cavour Garibaldi e Mazzini Garibaldi dice lui stesso di essere stato aderente alla setta massonica Mazzini probabilmente perché no non lo volevano fare non era lui il gran maestro dell'universo scherzi a parte Mazzini comunque fu un personaggio estremamente oscuro le trame di Mazzini ci fu qualcosa di pauroso Mazzini fu proprio una mente contorta del risorgimento italiano quando si dice la religiosità di Mazzini sì la religiosità ma anche lui fu religioso certo la religiosità di Mazzini però il popolo è Dio insomma il panteismo e compagnia bella beh Cavour di questi insomma gli altri non fanno storia Cavour fa testo Cavour è una persona intelligente capì con il risorgimento che più di così non poteva ottenere aveva già ottenuto tutto aveva già ottenuto tutto Cavour fu veramente la mente non c'è un paragone tra Garibaldi si dice di Garibaldi che era salito a cavallo combattesse senz'altro anche eroicamente lui che era stato del resto mercante di schiavi lui che aveva gli orecchi mozzi vedete anche nell'iconografia si vede sempre non si vedono mai gli orecchi gli orecchi mozzi perché si mozzava i ladri di cavalli nell'America Latina si mozzavano gli orecchi quindi Garibaldi a cavallo è un combattente anche riusciva a entusiasmare i soldati ma non lo fate scendere da cavallo perché i guai poi che ha creato Garibaldi anche a Cavour sono incredibili quando andò in Parlamento Italiano i guai sono incredibili l'Italia di Mazzini è l'Italia dell'utopia l'Italia che non esiste scrive lo storico Franco Cardini che è un amico carissimo io non lo condivido lui è filo filo islamico eccetera però lui in una lettera queste cose le riconosce insomma ecco sulla massoneria sul risorgimento fatto dalla massoneria io lo consiglio la lettura dei suoi dei suoi saggi proprio su questo qui sembra io ho risposto insomma a queste domande c'è una domanda ecco prego sempre il microfono per per poterlo documentare allora buonasera io sono un civitellese ormai trapiantato da più di vent'anni qui a Loreto quindi conosco bene Civitella del Trondo e ringrazio il professore per averci messo finalmente dalla parte giusta perché noi dalla storia diciamo quella che si studia a scuola siamo stati sempre i cattivi i borboni i briganti messi dall'altra parte quindi lo volevo ringraziare particolarmente in più volevo dire che tutta la popolazione di Civitella ha combattuto contro i piemontesi perché chi andrà a Civitella o chi c'è stato sa benissimo come è fatto il paese e mano a mano che si ritirava casa per casa praticamente veniva fuori un'altra roccaforte e per ultima cosa raccontano i vecchi perché mio nonno era dell'88 quindi assai vicino e diceva sempre che suo nonno gli raccontava tutti i fatti che i piemontesi erano cattivi e mi diceva sempre attenzione piemontese perché quello è terribile io sono venuto su con questo odio viscerale per il piemontese che mi è rimasto ancora e non ultimo sono andato quest'anno a Torino a trovare dei conoscendi piemontesi e mi sono ricreduto perché sono gentili anche loro e dicevo che per ultima cosa i civitellesi le donne anche che buttavano facevano corde con i capelli raccontavano l'ultima cosa che hanno buttato giù dalle mura erano le famose macine che servivano per fare il pane quindi buttate quelle non restava non restava altro per vivere e dopo ci fu la resa quindi ringrazio il professore per averci riabilitato alla storia tra virgolette che si studiava a scuola grazie io ringrazio lei ci ha fatto l'onore di venire a questa conferenza ecco questa è l'iconografia delle donne di civitella che buttano l'ultima cosa le macine di mulino buttano da civitella quindi dopo sì ci fu proprio la popolazione un fatto commovente che non volle che fu sempre con la guarnigione combattere fino in fondo questa è la fedelissima civitella del trono io vi inviterei a visitare civitella a leggere la storia ci sono dei libri se la storia di civitella è una storia che ci appartiene commovente molto bella quindi l'amico civitellese va ringraziato ecco prego ecco leggevo quando mi documentavo prima di questa conferenza che in effetti tra gli abitanti del Terramano invece di ai bambini che facevano i cattivi dire viene l'uomo nero ma viene i pinelli perché era rimasto nell'immaginario collettivo che questo generale era stato particolarmente severo buonasera premetto che il mio campo di studio è il medioevo quindi qui parlo in veste proprio da così da semplice appassionato applaudo a quello che le hai detto e così anche chi l'ha preceduta in questo ciclo di conferenze perché effettivamente ha provveduto a togliere il velo di fronte a tanti fatti soprattutto chi magari di vecchia scolarizzazione ha avuto un'idea particolarmente falsata di quello che è il risorgimento lei ha parlato di manicheismo ora però voglio essere un po' provocatorio in fondo anche la sua trattazione è stata un po' manichea dall'altro lato d'altronde l'aveva premesso lei prima ancora il vise io sono di parte aveva detto allora le chiedo magari anche forse per amor di oggettività episodi mi vengono in mente da antichi studi episodi quali quelli dei volontari napoletani alla prima guerra di indipendenza tutto direi l'episodio della repubblica romana che qui per esempio nel maceratese è molto sentito visto che la battaglia è l'unica vittoria di San Pancrazio è merito della regione maceratese quindi dalle nostre parti è anche molto sentito questo discorso come riusciamo a inquadrare questo discorso quando lei invece mi parla di aggressori aggrediti mi viene da dire che probabilmente con buona pace della professoressa Pelliciari non tutti erano massoni in Italia la massoneria non era così potente e molti animi di probabilmente di borghesi non di contadini forse magari di persone con un certo livello di scolarizzazione andava incontro all'idea di una Italia unita politicamente unita e non solo civilmente unita come lei parla di modo da superare un po' la cattiva idea del principe di Metternich per il quale noi eravamo semplicemente entità geografica ecco quindi ripeto provocatoriamente vorrei che mi dicesse qualcosa anche di tutti questi altri italiani di qualunque parte che si sono sacrificati nei campi della Lombardia piuttosto che alle porte di Roma o altri episodi sicuramente ce ne saranno per amore di questa patria politicamente unita grazie ecco ma indubbiamente mi parlava di Curtatone Montanara i soldati napoletani si batterono e furono eroici i volontari toscani fuggirono l'arma fucilata per dire insomma il mio amore anche per il Mediterraneo ma senz'altro ci fu l'idea di un'unità politica ma senz'altro ci fu anche questa idea di un'Italia che a molti non piaceva perché era un'unità un'Italia unita dalla religione cattolica senz'altro il risorgimento ci furono delle persone che combatterono che credetono ma furono una minoranza l'esorgimento non è quella lotta di popolo che si può far credere questo insomma poi che il fatto sia di parte mi sembra di averlo premesso sono anch'io manicheo sono molto manicheo però mi sembra che la storia vada vista proprio nelle in tutte le sue sfaccettature le ha detto che è medievalista e questo amore per l'antirisorgimento diciamo è stato ispirato proprio dal professor Cardini che io ho citato è stato amico ma anche maestro sembra impossibile lui era un medievista ma ci faceva già vedere allora che la storia va vista in tutte le sue sfaccettature e mi ricordo questo luogo comune che diceva di sfatare ma siamo rimasti al medioevo e lui diceva ma come siamo rimasti al medioevo il medioevo non è che sia una cosa da disprezzare quando voi portate qualcuno in una città li fate vedere il duomo li fate vedere non li ho portate a vedere lo stadio fatto dieci anni fa o il quartiere popolare ecco un po' questa passione per ovviamente anche per i vinti così mi è stata un po' ispirata da da Franco Cardini poi senz'altro vi fu chi combatté onore gloria chi combatté e io lo dicevo prima ragazzi di leva ragazzi idealisti senz'altro i mille che sbarcarono anche se dietro c'era la massoneria a preparare l'impresa i generali napoletani erano comprati dal loro massonico questi qui che combatterono combatterono evidentemente per un ideale furono anche eroici lo stesso va riconosciuto a chi combatté dalla parte del popolo napoletano fu una guerra in una guerra per di più di aggressione che i generali fossero comprati la massoneria era potente altro che potente era la massoneria era più che potente del resto i plebisciti fatti dopo dimostreranno che fu un fatto di minoranza lì ci furono plebisciti bulgari fattori che inquadravano i loro contadini e li portavano a votare per l'unità d'Italia insomma in paesi nella mia Toscana li vedo a Borgo San Lorenzo contro l'unità d'Italia votarono tre quattro non credo e poi tre quattro ma chi votava votavano soltanto pochissimi insomma una cosa non c'era il suffragio universale quindi fu una cosa minoritaria il risorgimento voglio dire alcune teste calde no anche idealisti persone idealisti che combatterono questo che io ci metto la passione e l'animo per questo perché in tutta la mia vita in tutti questi anni io ho visto i libri di testo ho visto come si fa la storia lì c'è una versione basta ecco diamo oppure una versione manichea ma diamo anche l'altra faccia della medaglia no Garibaldi è l'eroe biondo l'eroe con gli occhi azzurri una notte non dormì perché aveva rotto la zampina a un grillo però quando bruciavano i villaggi ammazzavano le persone non è che piangessero poi insomma quindi questa questa visione da cartolina del risorgimento italiano mi dà noia insomma questo il sacerdotal vampiro questa guerra a Pionono a questo metro cubo di letame questo fu anche il risorgimento poi i ragazzi che combatterono non certamente personaggi come come Mazzini combatterono quello faceva soltanto i complotti le cose poi mandava i poveri Cristi a combattere insomma gli idealisti mandava quelli che ci credevano per davvero in questo senso sono d'accordo ricordate quando studiavamo a scuola la spigolatrice di Sapri me ne andavo un mattino a spigolare quando vede una barca in mezzo al mare andarono lì a Sapri furono fatti a pezzi dai contadini perché questi andarono lì erano trecenti erano giovani forti fatti a pezzi e andarono con in cuore probabilmente l'idea di liberare gente che non voleva essere liberata poi onore a chi andò lì con queste buone intenzioni con questo idealismo nel cuore però questo fu il risorgimento insomma ecco il popolo li cacciò il popolo si oppose erano trecento erano giovani e morti e sono morti giovani e forti e sono morti questo che il popolo non li voleva il popolo cacciò Mercantini era un poeta tricolorato patriottico nella poesia racconta la verità racconta la storia com'era insomma il popolo non voleva questo risorgimento se poi erano pochi combatterono eroicamente senz'altro senz'altro intanto vedo che c'è un'altra domanda come è stato evidenziato anche al convegno di fermo a cui ho partecipato ieri dove si è trattato anche di questa tematica se appunto come è stato per altri movimenti per altri periodi storici fosse stata soltanto una classe sociale intellettualmente superiore e numericamente infinitesimale ad essere coinvolta e in effetti le masse non so come diceva Gramsci appunto c'era un professore dell'istituto Gramsci la sezione delle Marche che sottolineava come quando Gramsci ha studiato il risorgimento quando è stato messo al confino negli anni 20 aveva fatto questa riflessione che il risorgimento sicuramente era in parte stato deluso perché non si era riusciti a convolgere o a dare ascolto alle istanze dal basso e quindi dal basso si voleva la terra i contadini non avevano la terra prima e non l'hanno avuta dopo per tantissimo tempo quindi da questo punto di vista c'era stata una era stata disattesa alcune istanze ecco la domanda premetto che io mi occupo di storie antiche quindi frequentando poco questo periodo storico potrei anche chiederle delle sciocchezze le volevo chiedere oltre a elemento massonico quanta importanza ha avuto invece l'elemento protestante si è avuto appunto importanza e quanto della massoneria è ancora oggi diciamo presente nel nella vita politica del paese in genere quando si parla di massoneria la cosa attira molto se era presente l'elemento certo che era presidente il valdese ma di questa importanza dei protestanti dei valdesi ne parla uno storico penso non sia sospettabile di simpatie antirisorgimentali Giorgio Spini un bellissimo libro sul risorgimento ecco l'importanza che ebbero i protestanti nel risorgimento per quanto la massoneria oggi insomma io non credo a c'è una storia complottistica per cui ogni cosa si fa risalire alla alla massoneria certamente più che più che la massoneria vista come setta che manda gli accoltellatori sono cose un po' ottocentesche ecco con la massoneria come idee come modo di intendere le cose insomma la massoneria io abito a Firenze la città di Firenze è la città massonica per eccellenza in Firenze sono tutti massoni insomma parliamoci chiaro a Firenze nel campo della medicina dell'avvocatura dell'università se non si è massoni non si mangia lì ecco questa Firenze molte volte dicono la toscana rossa la cintura rossa la toscana massonica la massoneria è trasversale va dall'estrema destra all'estrema sinistra forse dalla destra alla sinistra forse gli estremismi sono quelli meno influenzati dalla massoneria la massoneria è potente molto potente nei governi non in quelli di cento destra o di cento sinistra nei governi insomma le chiedevo dell'elemento protestante visto in chiave anticattolica io adesso ho preso spunto da una conferenza che si è tornata di recente a Rimini in cui si parlava appunto dell'importanza dell'elemento protestante in questa fase del paese ad esempio si diceva adesso io riporto appunto quanto è stato detto in questa conferenza che il cappellano di Garibaldi fosse protestante che la stessa madre di Cavour fosse protestante che appunto il 20 settembre nel breccio Portepia il primo a essere penetrato all'interno del mura fosse appunto valdese e così via e quindi ecco le volevo chiedere se l'elemento protestante effettivamente ha avuto un ruolo determinante in questa fase oppure se effettivamente ha rivestito un ruolo marginale l'Inghilterra gli italiani diciamo i papisti fu proprio fu proprio questo risorgimento contro i papisti contro i cattolici papisti in Inghilterra e questo io l'avevo consigliato il libro di Giorgio Spini meglio di lui nessuno lui era Giorgio Spini era valdese anche il figlio fa politica Firenze Valdese oltre tutto un libro estremamente interessante Spini è uno storico da leggere sì sì ebbe un'importanza fondamentale quello lì sicuramente il dibattito che era partito in Sordina invece sta appassionando certo sono tematiche difficili sono tematiche attuali ecco siamo scivolati dalla storia di Civitella 150 anni fa all'attualità più o meno più o meno appunto contemporanea intanto se non ci sono ulteriori domande io naturalmente lascio al nostro al nostro relatore alcuni piccoli omaggi dato che è la prima volta che viene a Civitanova noi a cena io ho cercato di fare un piccolo compendio di storia civitanovese da San Marone e quindi dal primo secolo dopo Cristo ad Annibalcaro quindi il sedicesimo secolo passando per Sibilla le ramo a cavallo degli ultimi due per cercare di insomma di dare un'immagine della nostra città a una persona che viene da la città per eccellenza dopo l'urbe Firenze che è stata anche capitale d'Italia noi lasciamo delle pubblicazioni dell'Archeoclub la rivista Archeopiceno e poi uno scritto su Sibilla le ramo che abbiamo fatto stampare lo scorso anno in maniera abbastanza in poche copie purtroppo la parrocchia che ospiterà l'ultima conferenza su Civitanova dove abito io e poi la nostra pubblicazione dello scorso anno per conoscere un po' meglio la storia di Civitanova Civitanova immagini e storie e una stampa che abbiamo fatto fare a un artista locale una tiratura limitata riservata solo ai ai relatori in cui abbiamo voluto ricordare altri sorgimenti l'Italia il tricolore e questo ciclo di conferenze io ringrazio le persone nel frattempo si sono aggiunti anche altre quindi siamo ormai in una quarantina ringrazio tutti vi ricordo che fra qualche giorno questa conferenza sarà naturalmente disponibile sul nostro sito www.centrostudicivitanovesi.it al link naturalmente 150 anni dell'unità d'Italia e vi rimando all'ultimo appuntamento che non sarà più qui noi ringraziamo il parroco dei salisiani di San Marone Don Giovanni Molinari perché ci ha ospitato per ben sei incontri da settembre ma il primo e l'ultimo il primo l'abbiamo fatto all'auditorium San Paolo l'ultimo lo riferemo all'auditorium San Paolo a Civitano Valte quindi il 9 aprile il professor Cosimo Franco Manni l'omonimia non è casuale è mio fratello parlerà di carità di patria la spiritualità del risorgimento tra poesia religione ed affinità elettive ed affinità affettività scusate 1820 1820 1860 cioè come si diceva prima il senso di italianità e non pensiamo solo a Leopardi penso anche a Giacomo Costantino Beltrami e da tanti altri personaggi si sentiva lì il senso di appartenenza a questa civiltà gloriosissima nelle arti nella letteratura che aveva vita bimillenaria però poi in effetti mancava ancora qualcosa quindi grazie al nostro leatore e grazie a tutti di essere intervenuti e ad altri sorgimenti il 9 di aprile grazie